Un rientro gradito, Polvani, anche se nel secondo tempo, però insomma c'è tanta amarezza per questa sconfitta. Sicuramente sì, è stata una partita dove abbiamo regalato magari qualcosina di troppo, ci hanno punito e loro sono una gran bella squadra fisicamente, una squadra che insomma corre tanto, forse questo ci ha messo in difficoltà qualcosa e magari abbiamo sbagliato di troppo noi, l'avevamo pareggiata, però poi ci siamo ricascati nell'errore e non siamo riusciti a rimediarla nel finale. Ci sono degli episodi discutibili, insomma a partire dal calcio di rigore per loro, la mancata espulsione a un quarto dalla fine di quel giocatore del Pescara che era già stato ammonito, munizione sacrosanta. Sicuramente la doppia munizione l'abbiamo vista, era lì, quindi quella c'è poco da parlare. Sul primo rigore nostro mi sembrava che avesse preso palla, poi uomo, però magari noi eravamo lontani, quindi questo gli lasciamo il beneficio, rivedremo le immagini. C'è stato anche qualche altro episodio, se non sbaglio Pattarello, un'entrata che anche lì sembrava molto simile alla prima, un po' palla, un po' uomo, però vabbè dai guardiamo agli errori, non agli arbitri. Ti chiedo quanto ha pesato l'assenza di un centravanti, non voglio dire di Di Gucci, di un centravanti di ruolo là davanti, sia ha pesato qualcosa secondo te? Ma sicuramente qualcosina ha pesato, magari perché comunque sia Nicco ci dava una grande mano. Abbiamo provato a fare una cosa diversa e sicuramente la prima volta che la fai è chiaro un po' ti pesa, però è chiaro magari ti può arrendere ugualmente, essendo la prima volta magari un po' ha pesato, però può essere anche un'alternativa. Dopo quattro risultati utili di fila si interrompe questa striscia, anche se la squadra stasera al di là del risultato è sembrata viva sul pezzo, questo anche in chiave futura mi sembra un dato da sottolineare. No, no, sicuramente, è stata una partita intensa, noi abbiamo fatto il nostro, qualche errore di troppo, però secondo me la partita c'è stata, quindi sì, dispiace tanto per la sconfitta, però non è che ci hanno preso e distrutto. Ti chiedo come stai, mancavi dal 30 settembre, è passato un bel po' di tempo, come è andata stasera? Ma è stata lunga, sono stati tre mesi fastidiosi, però adesso ti dico che sto bene, mi sono allenato questa settimana con la squadra, quindi un po' in forma di avrò a entrare, però mi sento bene.